Maria. Non pensavo che sarebbe andata a finire così. Non ci pensavo. Davvero. La prima volta che mi ha dato uno schiaffo sono rimasta così sorpresa. Sono rimasta così male che non sono riuscita a dirgli niente. Lo conoscevo bene mio marito. Certo, non era un uomo calmo, ma non era un violento. Non lui. Lui era istintivo. Tormentato. Tormentato.